Ah, che ti spazio via, non ti devi per un po' Ma che fino a fa? Eh, esce fuori dal ring Ma dopo il torneo così, ragazzi Veramente noioso e patetico, perché non mi aspettavo nulla Ma come si fa a sfidare un faccio? Oh, ho trovato il trofeo Oh, ho trovato il trofeo